Un quadro desolante che certifica l'urgenza di un presidio fisso in Abruzzo che si occupi del ciclo dell'acqua. Con queste parole Sara Marcozzi, presidente della Commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica, ha riassunto le tante criticità emerse dopo la prima riunione della stessa che ha avuto per oggetto la situazione legata alle sei società di gestione idrica in Abruzzo, GSA, ACA, SACA, Ruzzo, Sasi e CAM. Abbiamo udito il presidente dell'Ersi che tra le varie cose ci ha detto insomma di varie criticità. Una delle tante criticità è il fatto che per ottenere i dati contabili dalle sei società di gestione il presidente dell'Ersi è impiegato dopo diversi solleciti, diciamo così, circa sei mesi. Poi è emerso il fatto che, a detta del presidente dell'Ersi, nessuna delle società di gestione avrebbe all'interno del proprio organico un ingegnere idraulico. A questo è seguita in serata la replica della Ruzzo che dichiara invece di avere ingegneri idraulici come commissione. Ci preoccuperemo a questo punto di verificare i curricula di tutti i dipendenti, di tutte le società di gestione, almeno chiariamo una volta per tutte questa questione. È emerso inoltre che il CAM ha delle serie problematiche ed è a rischio fallimento anche per il costo dell'energia elettrica. Insomma, tantissimi problemi in una sola seduta. Noi cercheremo, in questi sei mesi che ci separano dalla chiusura della commissione, di trovare i problemi ma anche cercare di risolverli e magari fornire una due diligence a queste società di gestione in modo tale che il sistema possa essere più efficiente e le tariffe quindi possano essere anche abbassate. Non soltanto trovare tutti i problemi, tra l'altro presto sarà a disposizione di tutti i cittadini e comitati un'email alla quale scrivere e alla quale far arrivare sia delle segnalazioni e sia delle richieste di audizione. C'è anche il solito problema annuoso quando si parla di acqua delle reti con la Brodo che la commissione affronterà. Grazie ai fondi del PNRR sono partiti dei progetti che mirano alla digitalizzazione delle reti e quindi a un efficientamento delle reti. Il problema della dispersione è gravissimo, sulla provincia di Chieti arriva appunto del 70% e dunque con questi fondi noi vigileremo e cercheremo di orientarli appunto per digitalizzare tutte quante le reti e renderle efficienti, diminuire assolutamente gli sprechi. Il presidente Merolli ci ha detto addirittura che se si riparassero tutti questi guasti, queste dispersioni noi potremmo addirittura servire un secondo Abruzzo, cioè un altro milione di persone. Per cui insomma tanto si può fare, si deve fare e cercheremo di farlo nel più breve tempo possibile. Giovedì prossimo la commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica tornerà a riunirsi per audire l'ingegnere idraulico dell'Ersi e analizzare un report patrimoniale contabile delle sei società abruzzesi di gestione dell'acqua.